ciao a tutti e ben ritrovati sul podcast di quelli del blog io sono gialluca e con me ci sono monica rega ciao antonio di carlo ciao e alessandro di deo ciao a tutti bene oggi parleremo di un argomento in particolare ne abbiamo scelto uno molto speciale molto legato alla città di ortona parleremo della pista ciclopedonale la via verde ma oggi avremo due ospiti che ci fanno molto piacere ci fa molto piacere avere qui oggi con noi loro sono giampiero irene una coppia su due ruote ma prima eccoci eccoci tornati come vi dicevo vi avevo anticipato oggi parleremo della via verde parleremo della via verde in abruzzo qual è la situazione in abruzzo e soprattutto parleremo della situazione ad ortona la pista ciclopedonale che ormai da anni è stata costruita ed è ancora in fase di sviluppo ne parleremo con due ospiti creditissimi due amici una coppia su due ruote come vi ho detto perché loro da tantissimi anni ormai stanno esplorando e stanno realizzando anche dei tour l'hanno fatto l'estate scorsa qui ad ortona ma loro sono giampiero irene io non vi dico altro vi faccio vi faccio presentare e diteci qualcosa su di voi ciao 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 luca ciao ciao a tutti amici del blog vi ringrazio per l'invito come detto tu siamo due una coppia su due ruote non vuol dire che siamo un tandem in realtà ognuno ha la propria bicicletta alla propria bicicletta insomma ci piace pedalare ci definiamo cicloturisti o cicloviaggiatori a seconda di come si vuole dire e come dicevi tu da molti anni che ovviamente è tempo perso il lavoro non ci concede molto molto tempo per le uscite comunque proviamo a fare viaggi in bicicletta per l'italia di 2 3 4 5 giorni quando riusciamo ad agosto anche di una settimana sentite come vi è nata la passione per le due ruote per esplorare irene voglio sentirlo da irene ciao a tutti anche da parte mia ma in realtà per me è stato molto strano nel senso che non me lo sarei mai aspettato nella vita forse è stato un po anche il fatto di stare con giampiero che invece già esplorava il territorio in dici diciamo fin dagli anni delle superiori diciamo che lui era era il più appassionato dei due no? esatto poi non avendo la patente era l'unico mezzo che avevo più per forza che per scelta necessità virtuosa necessità virtuosa e ok voi avete già fatto molti tour nella regione in cui vivete la Lombardia no? vivete lì per lavoro adesso immagino che ovviamente siete un po' più presenti ad Ortona però avete vissuto tanti anni lì a Milano e avete fatto già molti tour esatto non si direbbe ma la Lombardia esclusa l'area metropolitana di Milano è un'area proprio non dico fantastica però molto molto fertile per il cicloturismo per le ciclabili e le ciclovie sì quindi diciamo che la Lombardia offre un po' più di pianura volendo anche se non solo rispetto all'Abruzzo e invece l'Abruzzo? l'Abruzzo è il mare quindi diciamo una pedalata in Abruzzo vale no? e voi l'estate scorsa avete organizzato due tour mi pare no? sì abbiamo provato a organizzare due tour aprendo proprio un'associazione cicloturistica qui ad Ortona diciamo in una maniera un po' casalinga per questa prima prova beh però ho avuto un successo che non vi aspettavate neanche voi io c'ero posso dirlo che io c'ero e veravano 40-50 persone oddio 30 dai e vabbè abbiamo iniziato sì per divertimento il seguito come dici tu tu c'eri c'era anche Antonio c'è stato non solo anche un sacco di turisti mi ricordo una committiva cremonese modenese insomma ok no spieghiamo un po' di più perché magari se qualcuno volesse partecipare alla prossima estate se li organizzerete voi avete un blog un sito no? una pagina anche una pagina facebook come vi chiamate? allora giusto infatti sì siamo slow ride cicloturismo siamo chiamati anche questo un po' così per divertire di nome di fatto esatto slow ride appunto la parola stessa lo dice la lentezza che caratterizza i nostri viaggi i nostri giri sicuramente non siamo ecco i ciclisti della domenica che no fanno il giro con la bici super moderna con il completino super aerodinamico non siete dei fanatici ecco cerchiamo ecco di trasferire no le itinerari le strade che scopriamo le strade secondarie le strade anche le ciclovie le pietonali che scopriamo cerchiamo un po' di riassumere le itinerari e fare consigli di cicloviaggi insomma visto che è un fenomeno che sta crescendo quindi ok diteci un po' ma qual è lo stato attuale della via verde come l'avete trovata so e immagino che ci sia ancora molto da fare sì assolutamente allora ovviamente percorso fino a basso ricordando come era prima cioè il fatto che la via non esistesse sicuramente tantissimo è stato fatto ed è già un percorso bellissimo da fare sia in bicicletta sia a piedi è vero però che la partenza d'autona a cui noi ovviamente tenevamo appunto per appartenenza territoriale ha reso tutto un po' più difficile perché effettivamente la via verde perlomeno fino all'acqua bella di fatto al momento non è percorribile poi d'estate diciamo che si è visto proprio la voglia da parte sia degli ortonesi sia dei turisti di provare di sperimentare anche su una strada che non era ancora del tutto percorribile però sì al momento comunque rende tutto un po' più complesso beh sì ad esempio a sud ci sono quelle gallerie che portano fino all'acqua bella che in realtà tecnicamente erano chiuse ma molte persone l'hanno comunque attraversate esatto diciamo che quest'estate in realtà erano chiuse formalmente ma aperte praticamente aggirabili e trafficate insomma Irene una volta disse c'è più una volta abbiamo fatto un giro molto lungo dove sta in rete anche a Lanciano disse c'è più traffico sotto la galleria dell'acqua bella che il corso di Lanciano infatti però le gallerie erano al buio quindi non erano molto sicure serviva la luce la prudenza insomma anche a mano certe volte abbiamo portato a mano e però adesso ci siamo tornati recentemente diciamo sotto i saraceni quella parte no di sterrata dove sono quella della galleria dell'acqua bella è proprio sigillata saldata la grata è saldata ai bordi della galleria quindi proprio è praticamente impossibile anche scavalcare allora io vi do un po' di diciamo di collocazioni no di com'è secondo me strutturata a livello progettuale la via verde adesso soprattutto il pezzo di Ortona allora facciamo prima il discorso in generale per quanto riguarda l'Abruzzo la via verde dovrebbe partire da Pescara e dovrebbe arrivare fino diciamo a puntaderci no il punto ideale d'arrivo e tecnicamente però nella tecnicamente dovrebbe essere così nella pratica però il collegamento soprattutto ad Ortona è molto più complicato adesso la pista di Ortona si interrompe quasi a ripari di Giobbe al lato nord e si interrompe di nuovo lato sud poco dopo i saraceni quindi all'ingresso di quelle che stavamo dicendo quelle gallerie lì e vorrei collocare la pista di Ortona come tre tratti distinti Ortona nel mezzo due tratti a nord e un tratto a sud il tratto a sud è quello appunto che inizia dopo i saraceni arriva fino all'acqua bella e poi prosegue verso San Vito e i due tratti a nord essenzialmente il pezzo che dovrà collegare l'attuale fine a nord della pista ciclabile al Lido Riccio e un altro pezzetto che dovrà collegare gli stabilimenti balneari al Lido Riccio fino a Francavilla quindi attraversare la Postigli Riccio perché ho parlato di tre pezzi perché essenzialmente a livello amministrativo sia per regione che per provincia parliamo di tre lotti diciamo così di tre situazioni diverse a sud verso San Vito quindi il pezzo dopo i saraceni è di competenza provinciale mentre a nord i pezzi diciamo i pezzi diciamo i tratti della pista ciclopedonale la via verde sono di competenza della regione che ha già stanziato dei fondi ha stanziato circa due milioni di euro al comune di Ortona per realizzare il tratto che dovrà collegare almeno Francavilla agli stabilimenti balneari Lido Riccio che in realtà il tratto più critico non è quello perché affrontare e passare la Postigli Riccio è in piano quindi è facilmente realizzabile anche con un piccolo ponte che attraversa il fiume Arielli e il tratto più problematico sembra essere il primo pezzo lato nord quindi il pezzo dove arriva adesso la pista ciclopedonale fino ai ripari di Giobbe lì ci sono due gallerie o tre mi pare che erano prima di proprietà delle ferrovie dello Stato adesso sono state dismesse ma presentano delle forti criticità infiltrazioni d'acqua terreno friabile presenza poco sicura del passaggio in generale e invece a sud anche oltre la pista ciclabile in sé le città sulla pista ciclabile in di San Vito, Fossacesia, Vasto le avete trovate più sviluppate anche a livello commerciale dico io quindi attrattiva turistica, bar, punti di ristoro, noleggio bici sì anche un po' ovvio visto che la natura di San Vito e Fossacesia marina c'è una marina, c'è un lungomare già attivo commercialmente anche prima della pista ciclabile la conformazione territoriale di Ortona ovviamente difficilmente si presta a una pista ciclopedonale sul mare però si vocifera io vi posso dire, anzi si vociferava all'inizio per un ascensore al lato di quello che è la discesa di Costantinopoli nella pratica dei fatti mi pare che l'amministrazione comunale stia spingendo tanto per un ritorno la chiamano una funivia, poi bisogna vedere come realizzare se sarà una pedana, un ascensore o una funivia vera e propria che costeggi l'attuale scalinata del Ciavocco per farci capire quella vicinissimo a dove c'è adesso un bar all'interno del parco e la scalinata verrà lasciata intatta, verrà affiancata appunto da questa funivia automatizzata questo dovrebbe in qualche modo incentivare la risalita nella città e la risalita nella città in un punto come Terravecchia, il castello ovviamente invita tanto i turisti che passano sulla ciclopedonale voi che ne pensate? sì, cioè non so quanto possono aiutare i turisti che passano sulla ciclopedonale nel senso che ho dato i problemi che abbiamo visto da nord sicuramente sì, chi viene da sud, se qualcuno appunto da San Vito, da Posto Acesia viene da Sortona, sa, magari scopre, speriamo che c'è una maniera per risalire a Sortona senza faticare penso sia soprattutto un'iniziativa per i locali cioè per noi in realtà la città è ora che ci porta a su e giù probabilmente la risalita nella città cambierà un po' il modo di movimentarsi all'interno della zona dove verrà fatta la risalita e probabilmente però adesso io magari mi azzardo a fare una previsione neanche quest'estate vedremo un netto miglioramento della pista ciclopedonale quindi probabilmente ne riparleremo di nuovo nel 2022 a tal proposito noi avevamo fatto un'intervista all'assessore Cristiana Canosa e lei in realtà ci ha detto che il cantiere è aperto verso San Vito e secondo lei proprio durante la prossima estate questa estate che deve venire sarà realizzato il progetto quindi restiamo fiduciosi sì, noi ce lo auguriamo e mi immagino una pista ciclopedonale, una via verde finita ricca di persone, ok, ma soprattutto di attività commerciali per me la via verde non è soltanto un pezzo di asfalto non è soltanto un pezzo di strada asfaltato dove prima c'era la ghiaia la via verde deve sviluppare tutta l'area commerciale della città fa cambiare volto alla città San Vito ha cambiato tantissimo volto a Fossa Cesia Fossa Cesia ha cambiato tantissimo il proprio volto però di questa cosa ne voglio parlare soprattutto con Alessandro perché so che con lui ho avuto una discussione e lui ha le idee chiare su questo punto due anni di discussioni due anni e anni di discussioni Ale, una cosa fondamentale per me è che tutti i sindaci si mettano d'accordo creino un sistema una sorta di di coordinamento tra i sindaci e le città per essere un tutt'uno la via verde deve raccordare tutto tutto l'agglomerato urbano che attraversa diciamo basta farsi la guerra cioè diciamo Ortona la via verde a Ortona la via verde a San Vito la via verde a Fossa Cesia chiamiamola via verde punto poi ovviamente ci sono comuni attualmente o come Ortona non abbiamo problemi a dirlo che sono evidentemente più indietro ma questa cosa del sistemale è importante no? allora io sai quanto ritenga importante ma vale per la ciclopedonale vale veramente per tutto se noi non creiamo un sistema territoriale all'interno del quale non riconosciamo il fatto secondo me che la nostra regione ha come ricchezza la espressività la chiamerei del territorio la sua differenziazione del fatto che tu all'interno di un'area relativamente piccola hai a disposizione territori tra di loro profondamente diversi perché Fossa Cesia pensate alla ciclabile il tratto di Fossa Cesia è molto diverso dal tratto di Ortona anche dal tratto di San Vito il tratto che passa al di sotto dell'eremo d'Annunziano piccolo, breve ma unico nel suo genere senza citare il fatto della che a noi sta molto acquale d'Abruzzesi quando vai sulla maiella esci guardi il mare è vero dal mare alla montagna dal mare alla montagna e vale vale un po' dovunque secondo me questo discorso qui e deve valere per la ciclopedonale perché la forza della ciclopedonale non sta nei singoli tratti o almeno perderebbe secondo me veramente di valore perché un conto è dire vabbè io presento anche a livello di marketing a livello di comunicazione a livello di anche di servizi offerti un tratto di due due chilometri e mezzo come può essere quello di Ortona stessa cosa farebbe San Vito e a seguire le altre città invece no il progetto sono 42 chilometri di costa cioè è veramente un no un discorso di metodo per certi aspetti no per avere l'idea di dire gli interessi di San Vito non sono dentro San Vito o almeno non sono più dentro San Vito ma sono a Ortona sono a Fossacesia gli interessi di Fossacesia sono anche gli interessi di Ortona penso che sono no quest'idea quest'idea o almeno a quest'idea di turismo a quest'idea di fruizione di un'opera come la ciclopedonale deve seguire quindi una risposta perché poi io ne ho parlato tanto con Gianluca rimane anche questa un'idea è un'opera bellissima su questo nessuno ci mette in dubbio è un'opera enorme è un'opera che costa costerà tanto finirla costerà tanto tenerla in quindi o come sistema ci giochiamo cioè ci giochiamo adesso la partita perché se no anche questa è un'opera che impone una riflessione ma non per questo per quest'estate penso veramente per i prossimi dieci anni perché lì c'è l'opportunità adesso c'è quindi o e se non la cogliamo se non la cogliamo adesso anche rispetto al periodo generale storico che stiamo vivendo non dico che è l'ultimo treno però esatto perché perché poi da quest'estate soprattutto lo si è visto tanto con il covid con l'estate particolare che è stata c'è stato tantissimo turismo interno cioè turisti famiglie soprattutto di altre regioni che venivano in Abruzzo e scoprivano quasi per caso la pista riciclabile la via verde quindi tu dici io mi rifaccio al tuo discorso cogliere l'opportunità soprattutto adesso che il mercato del turismo per forza di cose sia stato distrutto massacrato ma cambierà ci sarà tantissimo turismo interno voglio dire sì non solo io sono anche abbastanza abbastanza fiducioso che insomma da questa crisi ne usciremo al limite non siamo qua non sappiamo quando ma se c'è una certezza e che ne usciremo e non penso che ne usciremo come ne siamo entrati questa svolta no anche a livello nazionale sul green sulle nuove tecnologie sul nuovo modo di comunicare sul nuovo modo di viaggiare anche il progetto tutto sommato del next generation you del livello europeo che saranno praticamente tutta sarà più della metà della spesa pubblica praticamente di questo paese da qui ai prossimi tre anni e siccome andrà in quella direzione probabilmente ci saranno anche opportunità di sviluppo e di finanziamento vero perché poi certe volte è mancato secondo me è mancato questo nel territorio cioè la capacità capillare di riuscire a creare meccanismi di investimento per i giovani piccoli imprenditori perché questo meccanismo non c'è stato e secondo me è fondamentale adesso io ripeto sinceramente non è che ho la risposta cioè faccio faccio altro però lo ritrovo fondamentale cioè lì dobbiamo farci nascere tanti posti di lavoro quindi sono d'accordo con te quando già lo dici io mi immagino 40 chilometri pieno di ristoranti pieno di attività commerciali per forza sì è assolutamente un obiettivo fondamentale e una cosa che vi volevo chiedere raga cioè secondo voi per vabbè la metto soprattutto su un ciclo turista o almeno come voi quali sono le strutture secondo voi ci sono non per forza legate all'uomo diciamo per conformazione a limite anche del territorio e ciò che secondo voi sarebbe molto molto utile per questo tipo di turismo anche semplicemente questo tipo di passione non per forza anche per ragazzi a limite di Ortona che dicono vabbè sai che è forse interessante mi potrebbe piacere voglio provare cos'è che manca o anche o a limite aspetti positivi allora quello che abbiamo visto facendo i tour ovviamente ad Ortona abbiamo avuto dei problemi a trovare banalmente un noleggio bici cosa che non accade più in altre città anche se poi verso la metà dell'estate abbiamo visto nascere anche ad Ortona un punto di noleggio quindi questo è molto importante speriamo che per l'anno prossimo ci sia sempre più disponibilità di biciclette poi c'è anche tutto il discorso da fare sulle potenzialità delle bike che in un territorio come quello di Ortona potrebbero sicuramente avvicinare molte più persone al ciclismo al cicloturismo per quanto riguarda i servizi diciamo sulla via verde beh forse in generale nel territorio c'è poca conoscenza di strutture specializzate nel senso che ormai esistono in Italia i cosiddetti bike hotel cioè hotel che offrono tutta una serie di servizi pensati per i cicloturisti anche per i ciclisti più fanatici quindi hotel che hanno al proprio interno ciclofficine che danno informazioni dettagliate sui percorsi da fare che magari hanno nello staff delle guide cicloturistiche che accompagnano poi i clienti che hanno ovviamente un noleggio bici gratuito quindi hotel specializzati quello sicuramente potrebbe essere ma quindi ma quindi secondo voi bisogna investire di più nel marketing nella comunicazione del territorio è giusto che l'Abruzzo perché lo dicevo anche prima che magari i turisti che arrivano la scoprono per caso questa via verde è giusto che l'Abruzzo punti in questa fase su marketing e comunicazione territoriale promozione turistica sì è giusto anche ovvio posso dire ti possiamo dire che un po' frequentando le community un po' di cicloturisti banalmente il gruppo facebook dedicato al cicloturismo italiano posto 4 una domanda su 4 parla di di via verde parla di ciclovia triatica un po' più ampia e soprattutto la parte abruzzese quindi la parte trabocchi poi ovviamente c'è chi ovviamente tutti si fanno domande ma è attiva e c'è transitabile un mio amico un mio amico mi ha detto sì un mio amico mi ha detto di no perché magari un amico ci è passato d'estate quando le gallerie erano aperte un altro si è passato in autunno quindi si crea anche una sorta di confusione però parlando più un po' della community del network del marketing vero e proprio quello prima Alessandro aveva detto aveva parlato di alcune cose che mancano io non vorrei fare il solito guastafeste ma un'altra cosa che è mancata tanto soprattutto nel pezzo che riguarda Urtona è l'investimento finanziario cioè voglio dire un primo investimento finanziario c'è stato con i fondi europei che sono arrivati ma non sono bastati perché probabilmente non si è tenuto conto di eventuali difficoltà strutturali come la costa in sé l'erosione della costa oppure le gallerie appunto che sono pericolanti e cosa c'è stato questo mi rivolgo soprattutto ad Alessandro di nuovo perché mi riallaccio al suo discorso cosa c'è stato secondo te Ale un errore di comunicazione una sottovalutazione dei costi a questo punto perché ci si aspettava che costasse il tutto di meno e oppure il progetto in sé per sé che è sbagliato a questo punto qui parliamo di mettere tanti altri soldi quasi un quarto in più dell'investimento iniziale non parliamo di fare rifare un pezzo di asfalto o mettere una pezza ecco parliamo nell'ordine di 4-5 milioni di euro da reinvestire di nuovo solo sul tratto di Ortona circa non saprei dirti una cifra però secondo me sono tanti poi che cosa è successo in generale dico la verità io non lo so non mi ritengo neanche un conoscitore in realtà così attento delle carte ci sarà stato c'è stato il finanziamento iniziale questo lo sappiamo ora questo finanziamento era per tutto il progetto se sì qualcosa è andato storto da una sottovalutazione come dici tu a limite dei costi come dire un bilanciamento non corretto tra quella che era l'idea dell'opera e quelle che erano i soldi effettivamente in campo che di per sé comunque potrebbe non è un aspetto per forza negativo di per sé io posso anche dire vabbè ho una progettazione a 5-6 anni utilizzo il bando europeo per cominciare a fare il grosso dei lavori diciamo come più che apripista direi e poi con limitatamente naturalmente le risorse che volta per volta amministrazioni locali o la regione riesce a mettere in campo vedo di andare a completare penso che aiuterebbe molto in questo momento avere una trasparenza e una programmazione sicuramente non mettersi a fare tra un anno tra due anni c'è tanta gente che cioè mi sembra un paese un po' fermo in attesa capito un paese un po' in attesa in cui ok c'è la possibilità c'è la potenzialità vediamo quando finisce paese secondo me sono tempi esatto un paese che poi non non pedala oppure posso pedalare a metà limite preferisco aspettare per certi aspetti e invece no bisogna cominciare non è finita ma bisogna cominciare ad avere un progetto già correlato alla ciclabile secondo me dobbiamo dobbiamo veramente c'è un gran bisogno spero che non butteremo soldi solo per fare progetti che magari poi scadono e che magari se ne faccia uno definitivo che poi possa essere realizzabile spero che non dobbiamo cambiare progetti in itinere perché ci accorgiamo che quello in realtà bisognava farlo così quello colà cioè bisognava partire quando si sa che le cose vanno fatte in un certo modo perché secondo me il problema è un po' questo però adesso dovremmo stare qui a parlare per altra altra ora quindi lascerei gli ascoltatori con questa riflessione dobbiamo finirla a tutti i costi whatever it takes whatever it takes ok allora direi che ci siamo siamo arrivati alla conclusione di questa lunghissima puntata i nostri due ospiti apprezzatissimi Gian Piero e Irene che io ringrazio veramente di cuore di essere venuti qui questa sera con noi a registrare ma grazie a voi e al vostro al vostro acume grazie a chi ti accorderà io vi ricordo soprattutto il loro sito perché loro sono un po' timidi non l'hanno detto slowridecicloturismo.it potete andare e trovare i loro tour stanno cominciando a pubblicare un pochino più assiduamente la marchettina la marchetta di fine no no tu ritirai italiani non è solo in Abruzzo magari potrete fare qualche altro tour in zona Abruzzo quest'estate covid permettendo e ok ok quindi ci lasciamo così vi ricordo ovviamente il nostro sito quelli del blog punto it la nostra pagina instagram e vi invitiamo tantissimo e qualcuno lo sta già facendo inviarci dei vocali per magari lanciare qualche tematica o semplicemente riflettere insieme di qualcosa e io vi lascio così un saluto da Gianluca Alessandro Monica e Antonio